Signora, che Sabino ha portato i pigiami in offerta, signora, signora, ce li abbiamo lunghi e ce li abbiamo corti, come li volete ve li diamo, signora, che Sabino è qui oggi, da casa di Facciola, Sabino è tornato finalmente, signora, signora, che Sabino è tornato a Mola, ha portato i pigiami, ce li ha lunghi e ce li ha corto, ce li abbiamo nei giri, ce li abbiamo pesanti, come lo volete ve li diamo, da Sabino, ha i pigiami lunghi e corti, come li volete ve li diamo, nei giri pesanti, qui è casa Facciola, signora, il Sabino è tornato, i pigiami in offerta, statevi, senza pigiami, statevi, che è tornato Sabino, giovane, Facciola, si sente la voce, Facciolino, esci dal balcone, esci, oggi è domenica, com'è possibile?